Cancelli sbarrati e studenti in piazza. Ai tempi del covid la Francia rivive la protesta degli universitari. Da Parigi il tam-tam si è diffuso in diverse altre città del paese dove i cortei hanno scandito slogan già noti ma con una priorità, la riapertura degli Atenei. Per ora solo gli studenti del primo anno potranno partecipare alle elezioni frontali in gruppi ridotti a partire dal 25 gennaio. Sono venuta qui perché credo che le decisioni prese dal ministero di recente siano largamente insufficienti e che ci sia l'urgente necessità di riaprire le università perché tutta la nostra generazione viene sacrificata e sarà incapace di stabilire legami sociali e di affrontare il mondo di oggi. Noi studenti come i ristoratori siamo i dimenticati ed è una situazione studentesca precaria, soffriamo in silenzio di fatto. Anche gli studenti di Lille chiedono la riapertura delle facoltà, siamo sufficientemente responsabili e in grado di rispettare un rigoroso protocollo sanitario, dicono. L'obiettivo è quello di farci sentire e di iniziare a mobilitarci per la riapertura delle università, una riapertura che ci sembra molto urgente con ovviamente un rigoroso piano sanitario. Si tratta solo di riaprire le facoltà e lasciare che i corsi si svolgano come prima della pandemia ma con un rigoroso protocollo sanitario.